Ok, adesso... ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. ...l'ho messo in un po' al buio e non ci si vede. Grazie a tutti. Grazie.